buongiorno a tutti, questa volta vi parlerò di come unire i vari pannelli per il mosaico so che ne avevo già fatto un altro, aveva alcune problematiche specialmente quando la fusione veniva fatta in lineare ultimamente per caso mi sono accorto che invece in non lineare le cose funzionano molto meglio ci sono meno problemi da gestire e quant'altro dunque mi farò vedere come è stata la fusione dei pannelli che ho fatto l'ultima volta vedo un attimo di correggere il fondo cielo in modo tale da renderlo uniforme agli altri nel possibile come vedete sono nella fase ormai non lineare ho terminato tutte le fasi di calibrazione del master in modo tale da avere un elaborato già pronto perché la fusione l'andremo a fare in non lineare dove ho visto funzionare molto bene e allo stesso modo con dei semplici passaggi le cose vanno anche abbastanza bene la fusione questa volta la faremo qui finisco giusto un po' ad occhio le cose andrebbero fatte molto bene, regolari allora, prima cosa fondamentale è che ogni immagine debba avere la devono essere risolte come vedete da qui se questo non è stato fatto basta aprire lo script in image analysis, image solver se avete usato il weight bash per processing l'immagine ha già in sé nei metadati le coordinate dunque prenderà tutto in automatico e il solver sarà molto più efficace non dovrai aggiungere il soggetto, le coordinate e quant'altro perché già le avrà prese tutte lui in automatico fatto il solver per ogni immagine abbiamo le nostre immagini che sono già risolte astrometricamente come vedete le coordinate ok, controllo che ci siano su tutte ok e ok allora fatta questa fase qui dobbiamo registrarle tramite lo script che è in utility mosaic by coordinate allora, questo è uno script in pixinsight non è uno script esterno allora, la cosa che io vi consiglio perché si evita di fare qualche passaggio in più e si rende il processo un po' più veloce è quello di salvarvi le vostre immagini come farò ora io perché praticamente queste le ho un attimo modificate salvare le vostre immagini nella cartella di destinazione ok e poi caricare le immagini su caricare le immagini dalla cartella questo perché? per un semplice motivo perché praticamente cosa succede? succede che con il mosaic by coordinate voi potete tranquillamente prendere le immagini che sono presenti sul desktop cioè io avrei potuto utilizzarlo tranquillamente da qui praticamente potete utilizzare lo script da qui utilizzando queste immagini ma e poi dopo vi rilascerà le immagini sullo script le dovete salvare poi dopo successivamente e praticamente dovrete poi dopo perché il secondo tool invece si occuperà della fusione a lui serve partire dai file allora in modo di evitare un passaggio il tool che andremo a utilizzare ora lavora molto più veloce se prende già i file i file salvati invece di lavorare sul desktop perché dovrà riprodurre poi dopo l'immagine sul monitor invece lui così legge il file imposta il campo inquadrato e poi dopo praticamente salverà il file senza generare l'immagine qui da noi allora la cosa l'ho vista che ho visto essere molto più efficace molto più veloce aggiungiamo i file eccoli qui li carichiamo ok lasciamo tutto in default e dopo gli diamo la director di output che invece è la stessa di prima ok so può scrivere le esistenti però noi non ce li abbiamo e ora faccio partire il file sono 5 2 3 5 ok tutto in default facciamo partire ora lui praticamente che fa legge l'annotazione strometrica di tutte le immagini vedete quello che sto facendo ora si calcola il piano il piano completo di tutte le di tutte le immagini e per ogni immagine l'andrà a collocare su ogni verso cioè praticamente avremo 5 file con tutti quanti lo stesso campo inquadrato ma ognuna ha la sua porzione in quel campo inquadrato bene ha terminato come possiamo vedere ci ho messo molto meno mi sono sentato un attimo allora ora partiamo con invece il process gradient merge mosaic andiamo a prendere i nostri file ecco ha finito più di 4 minuti fa allora qui possiamo dirgli di fare o la sovrapposizione o la media io ho visto che in questo caso con le immagini non lineare anche la media va bene cioè nelle zone di sovrapposizione non va la sovrascrizione di un pannello sull'altro ma va a mediare e nel mio caso può aiutarmi perché le zone della velo centrale che sono quelle più debole in questo caso si vanno a mediare nell'integrazione e ho visto che non ci sono molte differenze poi dopo con i bordi come al solito ora faccio partire il tool e poi ci vediamo quando ha terminato bene terminato anche questo processo eccolo qui e come vedete il risultato finale è questo qui allora ad occhio non si notano molte differenze e anzi è venuta forse anche meglio rispetto alle altre volte allora ora poi dopo qui uno volendo vuole fare una notazione astrometrica o fare tante altre cose ecco giusto per risaltare un po' più quali possono essere i problemi presenti e non ce ne sono per niente ok facciamo un ingrandimento sulle zone no molto bene quasi quasi questo sarà il risultato finale ecco non l'avevo ancora fatto il risultato finale forse potrò utilizzare anche questa qui va bene non ci sono differenze tra le zone di taglio perché in lineare scusate il problema era nelle zone di sovrapposizione dove in presenza di stelle più evidenti andava a creare dei pizzichi e quant'altro o invece in questo caso non avviene questo è tutto pulito sì sì bene ora uno qui volendo può fare la notazione astrometrica può fare prima l'image solver allora 2021 8 27 00 che cos'è ah perché non sono collegato eccolo qua bene allora dopo aver fatto un po' di prove ma il problema era il soggetto ora ho provato i cataloghi gaia ce l'ho fatta quindi dovrebbe terminare a breve terminato il solve ora facciamo l'annotazione astrometrica render annotate image ok questo ora non ci serve non avevamo la cometa facciamo l'anteprima ok come potete vedere qui ci sono 8 nomi di stelle 11 ngc ic 20 png 8 nomi di stelle è uguale una lbn una ldn e poi bene ok missionata l'anteprima ci creiamo la nostra immagine con la annotazione astrometrica bene e abbiamo finito allora si con le bolososcure nei punti dove non c'è segnale però lui guarda il campo se c'è o meno segnale infatti la notazione la risoluzione dell'immagine è anche da questi lati dai bordi ecco qui questo è quanto riesco a darvi una visione un po' più restringo la faccina ok così ecco c'è una visione un po' più sperando che si potrà vedere bene anche quando il video sarà pronto ecco la velo a ovest tutta la parte centrale questa zona questa zona qui viene detta la network velix network bene molto soddisfatto del risultato l'arco est quello che ho chiamato arco ovest poi la zona dell'arco est e la velo est con l'accenno del guscio di idrogeno che racchiude tutta la nebulosa infatti era uno dei principali motivi per cui ho voluto eccola qui segue tutta avvolge avvolge tutto il complesso della velo allora ritorniamo missione un po' più completa del tutto dunque ricapitolando tutto noi siamo partiti da i singoli master dove li abbiamo calibrati deconvoluti ridotti del rumore strecciati fatto delle operazioni di cosmesi e siamo arrivati alla fine che abbiamo deciso di fonderli dunque passiamo da delle immagini dai singoli pannelli tramite l'image solve facciamo la risoluzione dei pannelli e abbiamo i nostri master risolti con lo script mosaic by coordinate salvando i nostri singoli pannelli sulla cartella su una cartella di output e caricandoli poi dopo sul mosaic by coordinate noi praticamente andiamo ad caricare i nostri file e far partire lo script in automatico dandogli una directory di output eventualmente sovrascrivere se noi i file già abbiamo fatto qualche altra prova e lasciamo fare a lui e il risultato poi sarà così cioè noi abbiamo le nostre immagini con il campo intero di tutti i pannelli che noi abbiamo a disposizione e ogni pannello nella sua giusta collocazione ok ovvio che le immagini sono sempre tutte risolte come vedete poi una volta ottenuti i nostri file registrati praticamente carichiamo i nostri file su gradi merge mosaic e otterremo la nostra immagine finale ho visto come ho detto già prima nel video che non ho avuto problemi di sovrapposizione delle immagini non ho avuto problemi delle stelle sdoppiate o io non me ne sono accorto ma non penso che ci siano o se ci sono sono molto meno evidenti rispetto a quello a cui ero abituato in precedenza e allo stesso modo non abbiamo degli artefatti dovuti dalla fusione in lineare funziona molto bene al massimo se c'è qualche problema che non va lo si fa con la sovrapposizione invece della media ma usando lo script precedente il mosaic by coordinate in teoria dovrebbe già correggere qualsiasi distorsione che ci potrebbe essere e roba varia dunque alla fine abbiamo la nostra immagine la risolviamo tramite lo script image solvet però ricordiamoci di mettere il nome del soggetto presente nel mio caso ne avevo molti ma basta metterne uno e poi dopo il resto ovvio lunghezza focale se non c'è già messa data queste cose qui ovvio bisogna metterle si fa il solvet dell'immagine e poi con lo script in render annotate image abbiamo poi dopo la nostra immagine il pc ora è carico abbiamo la nostra immagine annotata avremo anche la nostra immagine annotata va bene continuo questo è quanto spero che anche questo video sia stato di aiuto ci vediamo alla prossima se ci sono domande lasciateli tra i commenti se vi piace il video condividetelo e supportatemi con seguitemi alla prossima